Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali cambiano gli equilibri sul territorio terramano, soprattutto nei comuni dove i sindaci che vorranno candidarsi alla regione si dovranno dimettere. Potrebbe essere il caso di Campli, si parla di candidatura di Pietro Quaresimalo oramai da tempo. Qualora dovesse candidarsi e dimettersi parte il toto candidato a sindaco di Campli. Per quanto riguarda il centro-destra è il nome più gettonato. Ad oggi è quello di Agostinelli, è così? Andiamo bene perché partiamo un po' in anticipo. Sono valutazioni che si faranno successivamente. Io credo che il primo passo che dovrà essere fatto sarà quello che il sindaco Pietro Quaresimale dovrà prendere questa decisione. Ancora non comunica comunque all'Aggiunta, al consigliere di maggioranza se veramente vorrà decidere di fare questa candidatura in regione o meno. Quindi aspettiamo questo suo passaggio. Peso politico è importante quello delle elezioni provinciali. Sono elezioni di secondo livello. Proprio per questo motivo incideranno molto anche poi sugli scenari per le regionali. Perché alla provincia si possono candidare i sindaci e molti sindaci magari si dimetteranno per andare alla regione. Sì, c'è anche questo scenario di questa pazza legge elettorale delle province. Io da consigliere provinciale ho partecipato a queste elezioni di secondo livello. Sinceramente mi piacciono poco, l'ho già detto. Però sicuramente sarà quello di fine ottobre il primo appuntamento importante dove si scalderanno nuovi motori per le elezioni poi successive regionali e amministrative. Per tornare a Campli, a Costinelli e a Mariani sono questi i nomi che circolano per la candidatura a sindaco? Ce ne sono tanti. Credo che in questo momento Campli rappresenti uno scenario politico particolare in provincia perché ci sono persone con esperienza, tanti giovani che hanno dimostrato già qualcosa. Vogliono ancora dare al proprio territorio. Io sono uno di quelli che... Ma lei si candiderebbe? Io non ho esaurito la mia spinta politica, quindi credo che fino a quando ho qualcosa da dare al mio territorio, alla mia provincia e alla mia coalizione credo che sono a disposizione. Dopodiché credo che le autocandidature non sono mai positive, quindi sarò la sintesi di un percorso di un ragionamento molto più ampio che mi vedrà coinvolto sia nelle elezioni regionali, perché anche se non candidato o candidato comunque sarò in prima linea per portare avanti quella che è la coalizione che sostengo, perché credo che la Regione Abruzzo abbia bisogno di un cambiamento, deve essere un cambiamento di centro-destra e poi successivamente mi renderò comunque a disposizione per tutto il resto. Quindi valutiamo, aspettiamo. L'importante è mantenere un atteggiamento costruttivo con il cittadino.